Buongiorno, buon caffè. C'è un grosso vantaggio nel diventare nonni, oltre alla gioia di poter avere una bellissima nipotina, è che ti fa capire, ti fa apprezzare, ti fa avere una visione completamente diversa di quello che è il senso del tempo, il senso del controllo, il senso di quello che è realmente importante, il senso delle priorità. Perché alla fine ti fa scoprire con anche la violenza della necessità di avere affetto quello che veramente conta nella vita. Così magari programmi di avere una giornata per leggere, studiare, approfondire, riposare, fare alcune cose e invece piomba, piomba lei. Ma con quella gioia che ti fa pensare veramente ma chi se ne frega di tutte queste cose, ma alla fine che cos'è più divertente? Ma no, neanche divertente, cos'è più pieno, cos'è più significativo? Che passare delle ore qui a curare una nipotina, a giocare con lei, a tenerla abbracciata, a fare quelle stupidate, a parlare da bambine, a cantare le canzoni dello Zecchino d'Oro degli anni 60. Cos'è più importante nella vita che questa cosa qua? Cos'è più importante nella vita dell'affetto, dell'amore, della carità? Ci ho detto la parola che vi piace di più, ma il concetto mi sarà abbastanza chiaro. Cos'è più importante di questo che meriti di impegnare il proprio tempo? E ti aiuta anche a capire l'importanza delle piccole cose. Torneremo su un prossimo caffè su questo. Ti aiuta a capire realmente dove sta il tuo cuore. Ti aiuta a capire in che modo puoi perdere il controllo, smettere di voler controllare tutto, di voler essere dappertutto, di voler sentire tutto che ruota intorno a te per capire realmente quello che ha valore e ha senso. Buongiorno, buon caffè.